e lei è diva diva e le zie e anche lo zio vuole vivere in braccio diva diva sono più piccola di un paio d'anni cos'era un 16-17 kg non di più anzi forse di meno è una mix da caccia forse è incluso pointer immortaliamo questo momento un po' di privacy zia povera cucciola scusa ma non posso interrompere il video brava adesso ti senti libera che stavo dicendo sarà un incrocio tra setter e pointer probabilmente sicuramente una mix da caccia che è morbidissima è morbida ma c'è un musetto fammi vedere questo musetto va d'accordo con altri cani marchi, temmine non sappiamo con i gatti ancora non sappiamo aspettate io c'ho la bella caccia me l'avevo dedicata quando me la faccio un pochino pochino da piccola la confermazione della te no, secondo me no come sei bella sono i cani di tutti io non ho visto poco nella cacca scusate andiamo a controllare se questo paperotto è recuperabile ok, la cacca secca non lo vuole lei è signorina è diva lei è il poverotto la cacca la guarda proprio schifata ma è lui che ha buttato il tocco sull'acqua ha carezzato un pochettino cioccioliano un po' c'è Antonia la mamma di Vasco diciamo chissà se c'è l'altro qui se mi sbaglio c'è Bella c'è? Bella e chi è? la maremmana no, non era su no, Bianca mi sembra come l'ho chiamata io? Bella vieni, vieni Bianca mi sembra penso sia lei se l'ho vista prima possiamo chiedere su altri cani vieni, vieni tia Claudia prendila con il guinzaglio e portala un po' a camminare oh portala un pochetto a camminare appena ha finito tipo un ostico si è camessicato eh quasi ingoiato diciamo sì un po' tipo topolina veramente non male ecco l'hai piaciuta ecco qua anche questa viene dal canile sì non il canile è stato proprio di passaggio è stato di passaggio ah sì 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 però di passaggio sì è uscita dal canile ma comunque è giovane secondo me c'ha un anno o se c'ha due anni c'ha dei denti perfetti sì proprio pulita insomma prima l'ha mangiato sei impegnato si sta chiamando e sta chiamando anche lei com'è carina però eh bellissima tia claudia corri 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 ciao mamma che il noso morbido che hai ciao ciao ci sta chiamando ciao ma fa le le foto così sembra una zia claudia chiara vieni qua non fa più effetto il papero per farle drittare le orecchie ce le ha riposate le orecchie è così Grazie.